Buongiorno a tutti, sono Francesca Montesanti e oggi vi volevo presentare Lara, che è una giocatrice del basso ordiano, creata da Rogelio Catelli e Marco Sassella. Buongiorno, mi chiamo Lara, ho giocato a basket da sette anni e quest'anno ho fatto il baschettiamo a Natale. Dimmi cosa ti ha trasmesso questo baschettiamo? Allora, devo dire che è davvero molto bello, insegna molte cose, ho migliorato il tiro, posso dire il tiro libero. Una palla, due canestri, tanti amici. Quanto ti piace il baschettiamo da uno a dieci? Vengo da tantissimi anni e mi piace sempre di più. Ho svento un attimo io, ragazzi. Brava! Intanto stiamo seguendo Oliver. È tutto bello? Ovvio. Da uno a dieci quanto è bello? Otto e mezzo. Quanto sei alto? Uno e nevanto a due. Ok. Uno e nevanto a due. Stiamo qua con José. Ma fatti vedere! Il cubano. Ragazzi, lui è un esempio di quel ragazzo. Di quei ragazzi un po' fuori dalla legge, come dice. Perché? Buona partita, aiuta! Sì, vuoi dire qualcosa? No. Sì, 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 sì. Bravissima! Buona partita! No! Andiamo! No! 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 Quello era un esempio di Oliver Poi volevo dire, avete fatto anche amicizia o solo male? No, anche amicizia Poi anche delle sere siamo E' conosciuto Francesi? Ah, francesi, eh Sono Francesco Montesanti E lei è Lara Buongiorno, sono Lara, come andate Francesca E siamo qui con Marco Sassella Buongiorno Il creatore di Baschettiamo Lei invece è Loisa, una fan Una groupies La figlia di Roger Locatelli Roger è scomparso E' un tipo che è scomparso Allora, quindi abbiamo una domanda Come mai è nata questa idea di creare il Baschettiamo? Ma ci piace la pallacanestro Ci piace poter stare in mezzo ai giovani E poter insegnare qualcosa A quei tempi quando l'avevamo creato Eravamo ancora tutte e due Freschi giocatori e belli attivi Eravate giovani un po' però Sì, eravate giovani Eravate giovani Eravate giovani Eravate giovani Eravate giovani Eravate giovani A casa mia è base Ah, non lo imitavi mai E tu? No, ma è conoscendo Marco No, dai, scherzato Ah, solo te Andiamo a vedere la testa di Roger Vedete che faccio i capelli Qua non c'è lungo Beh, va così? Sì, grazie mille Grazie a tutti Arrivederci dal TG5 Addio Ciao Vi è piaciuto perciò questa esperienza? Sì, sì, è stata bellissima Arrivederci La consiglio molto La consiglio Guardate su Instagram e guardate questo video Ciao